A volte vorrei avere solo un giorno per sentirmi un vero orco di nuovo. Nessun problema, le transazioni magiche sono la mia specialità. Una firmetta. E entro la fine della giornata, tu ti sentirai un orco nuovo. Dunque, che succede ora? Buona giornata. Benvenuti al nuovo Molto, Molto Lontano. Oh no. Ehi, questo non faceva parte del patto. Ciocchino di un orco, è tutto cambiato. Sono re ora. Questo borcellino vuole andare a casa. I suoi amici non lo conoscono. Io non ti ho mai visto prima in vita mia. Sono io, Shrek. Aiuto, mi rapisse un orco squintornato. Il suo vero amore non se lo fila per niente. Fiona! Che felicità, ti ho trovato! Dove l'abbiamo scovato questo qua? E i suoi problemi sono sempre più grossi. Gatto. Sfamami, seosi. Da Dreamworks Animation. Se Shrek si scambia il bacio di vero amore con Fiona entro l'alba, è la fine del mio impero! Prendetelo! E ora... Stanotte, attacchiamo. Benvenuto nella Resistenza. E chi lo sapeva, questo? Preparatevi all'ultimo capitolo. Prendetelo, streghe! E tenetevi forte. Per la più grande avventura di Shrek. Gatto e Ciocchino in soccorso! Ciocchino! Fantastico. Shrek e Vissero Felici e Contenti in 3D. Ehi, Ciocchino. Mi presti la tua lingua? Cos'è? No, 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 no. È da più. Fammi gli occhioni come ti pare, bello. Te lo puoi scordare. E va bene! Arr-re-re-re-re-re-re Ehi, Ciocchino. Mi è 7 che è troppo imbieto. Alla prossima! Abona! Autore dei libri. In fin, chica.